Cari amici, cari concittadini, buona serata, ecco qui la televisione è venuta a Cocciano un po' per affetto perché qui, proprio qui, nacque a televisione e un po' perché dobbiamo effettuare un controllino. L'ufficio Minculcorp della giunta all'Etaps, ovvero lo stipendificio Marconi, ha oggi dato ampio risalto a quest'opera qui, questa scalinata dove è stata posta questa maniglie, questa ringhiera che aiuta sicuramente persone di una certa età che possono trovarsi in difficoltà. A parte che rimane sempre il fatto di questo scivolo ad uso di sabili che insomma ci vorrebbe la macchinetta con le quattro ruote motrici oppure immagino io ho una signora che va a fare la spesa col carrozzino, insomma guardate che è salita, forse se vede poco, però insomma il motivo per cui sono qui è perché stamattina un amico mi ha detto ma guarda che lì manca la luce a un lampione da due anni e mezzo e poi mi ha detto, dice io ho scritto, ho mandato email, ho parlato con Tizio Concaio, addirittura mi ha detto, qua è sorta il mio dubbio, con l'assessora Cappello il fiore all'occhiello dell'aggiunta alle TAPS e io mi è venuto il dubbio, dico ma dai su non è possibile, mi stai raccontando qualche refregnaccia e allora io sono venuto qui per verificare e a questo punto a sé, io ti devo chiedere scusa perché ho messo in dubbio quello che avevi detto, da quant'è che sta così? Allora questa a onore del vero, questa lampada che stai inquadrando adesso, non è molto, sono sei mesi, è bruciata, segnalata, ma quella ha le tue spalle, quella è bruciata da due anni e mezzo, questa è bruciata da due anni e mezzo, sul numero civico 3 e 4, è bruciata da due anni e mezzo, segnalata più volte alla Smile, che se ne sono fregati altrimenti, sì ma la Smile doveva prendere una barca da sordi però bisogna dire, allora se non mi paghi, io i problemi guardo i miei, cerco di risolverli da dove è possibile interessando le persone in modo ufficiale, quello che c'è a Monte mi interessa relativamente, noi pagiamo i tasse e volevamo il servizio, amen! E questa è la realtà, questa qui l'ho segnalata alla STS come richiesto dai manifesti sono stati affissi dal comune, numero verde, tre volte l'ho segnalato, tre volte non sono venuti, so che l'hanno letto perché mi hanno risposto in via Michaevole comunque, non è stato risolto il problema, ho interessato con una e-mail l'assessore Cappello, alla prima mi ha risposto gentilmente, come pure alla seconda, all'onore del vero è stata molto gentile nei miei confronti, soltanto promesse ma fatti non ci sono stati, ho detto adesso mi sto stufato adesso, ora non ti fai illusioni, non ti credere che perché facciamo sto filmato… Ti garantisco che se mi dessero la possibilità di intervenire sull'impianto me la vado a cambiare solo, spese io, ma non c'ho la possibilità economica per lo fare… Ah beh, vabbè, fra l'altro pare che sta per scadere il contratto, no? Non lo so, io non mi chiedete… No, no, mi dicono che stia per scadere il contratto, per cui se le sostituiscono adesso paga chi ha la manutenzione, se invece scade il contratto e paghiamo noi… questo non lo so, io a casa ci arrivo con la macchina, con i fari dalla macchina e la metto nel mio parcheggio… Eh, ma uno che c'è rimpiede… Mi interesso delle persone che hanno una certa età, che scendono da circolare, che ha la fermata qui sopra, devono percorrere questa congiungente tra la strada Via Lamalfa e Piazza Morandi, è veramente pietoso stare a queste condizioni… Allora vediamo che succede, per me succede niente…